Elon Musk ha appena rivelato progressi rivoluzionari che potrebbero ridefinire il nostro futuro. Dai sistemi di intelligenza artificiale rivoluzionari agli sviluppi all'avanguardia nell'esplorazione spaziale, l'ultimo aggiornamento di Musk è monumentale. Cosa significa questo per Tesla, SpaceX e il mondo intero? In che modo queste innovazioni plasmeranno la nostra vita quotidiana e il futuro della tecnologia? Unisciti a noi mentre esploriamo i dettagli dell'annuncio di Musk e scopriamo le implicazioni di queste incredibili scoperte. Elon Musk ha fatto un annuncio importante destinato a rivoluzionare diverse industrie. Al centro di questa rivelazione rivoluzionaria ci sono tre componenti chiave. L'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, Grok 2 e Grok 3, i progressi di Tesla nella tecnologia di guida autonoma completa e i nuovi sviluppi nell'esplorazione spaziale e nella tecnologia satellitare. Ciascuno di questi aspetti rappresenta un notevole passo avanti nella visione generale di Musk per il futuro. Ma in cosa consistono esattamente queste innovazioni e come impatteranno sul nostro mondo? Innanzitutto parliamo dei progressi nell'IA. Musk ha presentato Grok 2 e Grok 3, due sistemi di IA all'avanguardia, che promettono di ridefinire l'intelligenza artificiale come la conosciamo. Questi sistemi sono progettati per spingere i limiti di ciò che l'IA può ottenere con capacità che superano di gran lunga le tecnologie attuali. Grok 2 si concentra sul miglioramento degli algoritmi di apprendimento automatico, rendendoli IA più intuitiva e capace di risolvere problemi complessi. Nel frattempo, Grok 3 mira a integrare questi algoritmi avanzati in applicazioni reali, dalla sanità alla robotica. Il potenziale di questi sistemi di IA è straordinario, ma cosa significa questo per la persona comune? In che modo Grok 2 e Grok 3 cambieranno il modo in cui interagiamo quotidianamente con la tecnologia? Musk ha sottolineato gli ultimi progressi di Tesla nella tecnologia di guida autonoma completa. Tesla è stata in prima linea nella guida autonoma per anni, ma questo ultimo annuncio segna un traguardo significativo. Il nuovo software di guida autonoma completa offre funzioni di sicurezza migliorate, una navigazione ottimizzata e un'esperienza utente più fluida. Immagina un mondo in cui le auto si guidano da sole con precisione impeccabile, riducendo incidenti e congestione del traffico. Non è solo un sogno futuristico, sta diventando realtà. Quanto presto vedremo questi veicoli completamente autonomi sulle strade e cosa significheranno per il futuro dei trasporti? Oltre a questi progressi, Musk ha anche rivelato sviluppi entusiasmanti nell'esplorazione spaziale e nella tecnologia satellitare. SpaceX, la compagnia aerospaziale di Musk, continua a fare passi da gigante con i suoi ambiziosi progetti. L'annuncio includeva aggiornamenti sul programma Starship, progettato per missioni su Marte e oltre. La tecnologia satellitare di SpaceX è destinata a migliorare la copertura globale di Internet attraverso il progetto Starlink, fornendo accesso a Internet ad alta velocità anche nelle aree più remote. Questo potrebbe rivoluzionare le comunicazioni globali, ma come verrà implementato e quali sfide dovranno essere affrontate? Queste innovazioni non sono risultati isolati, ma fanno parte della visione più ampia di Musk per il futuro. I suoi obiettivi per Tesla, SpaceX e l'espansione dell'umanità nello spazio sono interconnessi, ciascuno spingendo avanti i suoi piani ambiziosi. Musk immagina un mondo in cui l'IA, i veicoli autonomi e i viaggi spaziali, siano integrati nella nostra vita quotidiana, portando l'umanità in una nuova era di progresso tecnologico. Ma cosa motiva Musk a perseguire questi progetti rivoluzionari e come intende superare gli ostacoli che incontra? Elon Musk ha presentato Grok 2 e Grok 3, due sistemi di IA all'avanguardia, che promettono di rivoluzionare il campo dell'intelligenza artificiale. Questi sistemi rappresentano un notevole passo avanti, offrendo capacità che superano di gran lunga le tecnologie esistenti. Ma cosa distingue Grok 2 e Grok 3 e come si confrontano con altri modelli di IA leader come quelli sviluppati da OpenAI? Grok 2 si concentra sull'avanzamento degli algoritmi di apprendimento automatico a livelli di sofisticazione senza precedenti. È progettato per comprendere e elaborare set di dati complessi con notevole precisione, diventando uno strumento inestimabile in settori che vanno dalla sanità alla finanza. Grok 2 può identificare schemi e tendenze nei dati che prima erano indetectabili, consentendo previsioni e decisioni più precise. Ma come fa Grok 2 a raggiungere questo livello di precisione e cosa significa per le industrie che si basano sull'analisi dei dati? D'altro canto, Grok 3 si concentra sull'applicazione. Prende gli algoritmi avanzati sviluppati in Grok 2 e li integra in scenari reali. Questo sistema è particolarmente incentrato sul miglioramento dell'interazione uomo-macchina, facilitando la collaborazione tra persone e IA. Immagina un mondo in cui l'IA assiste i medici nella diagnosi delle malattie o aiuta gli ingegneri a progettare strutture più efficienti. Le applicazioni potenziali di Grok 3 sono ampie e varie, ma quali settori ne beneficeranno maggiormente e quanto presto possiamo aspettarci di vedere questi sistemi in azione? Rispetto alle tecnologie esistenti, come i modelli di OpenAI, Grok 2 e Grok 3 si distinguono per le loro capacità di apprendimento migliorate e adattabilità. Mentre OpenAI ha fatto progressi significativi nell'elaborazione del linguaggio naturale e nei compiti generali di IA, Grok 2 e Grok 3 sono progettati per andare oltre. Puntano a essere più intuitivi e in grado di affrontare compiti specializzati con maggiore precisione. In che modo la competizione tra questi giganti dell'IA plasmerà il futuro dell'intelligenza artificiale? Le implicazioni di questi progressi vanno oltre il semplice progresso tecnologico. Lo sviluppo di sistemi di IA così potenti porta con sé una serie di considerazioni etiche e rischi potenziali. Ad esempio, l'impiego dell'IA in settori sensibili come la sanità o l'applicazione della legge solleva interrogativi sulla privacy dei dati e sul potenziale di pregiudizio. Inoltre, man mano che l'IA si integra sempre più nella vita quotidiana, la questione della perdita di posti di lavoro diventa sempre più rilevante. Come si adatterà la società ai cambiamenti portati da queste tecnologie avanzate e quali garanzie sono necessarie per garantirne un uso responsabile? Queste preoccupazioni etiche non sono solo teoriche, sono una parte cruciale del dibattito sullo sviluppo dell'IA. Il potenziale di uso improprio o di conseguenze non intenzionali è significativo, rendendo imperativo che sviluppatori e politici collaborino. Come possiamo trovare un equilibrio tra innovazione e cautela? E quali misure si stanno adottando per affrontare queste sfide mentre ci dirigiamo verso un futuro sempre più dominato dall'intelligenza artificiale? Esploreremo le vaste conseguenze di questi sistemi di IA in numerosi settori e le ricadute più ampie per la società mentre ci addentriamo nei mondi di Grog 2 e Grog 3. Si tratta di affrontare le complessità di un panorama digitale in rapida evoluzione e dell'innovazione tecnologica. Unisciti a noi mentre esploriamo i dettagli e le implicazioni della visione audace di Musk sull'IA. Elon Musk ha annunciato gli ultimi aggiornamenti al software Full Self Driving FSD di Tesla segnando un significativo passo avanti nella tecnologia dei veicoli autonomi. La nuova versione dell'FSD offre miglioramenti nella navigazione rilevamento degli ostacoli e capacità di prendere decisioni avvicinando Tesla all'autonomia completa. Ma cosa rende questo aggiornamento diverso dalle versioni precedenti e come si confronta con altre tecnologie di veicoli autonomi? Il sistema FSD di Tesla è sempre stato all'avanguardia nella rivoluzione della guida autonoma ma questa ultima versione lo porta a un nuovo livello. Grazie a reti neurali avanzate e al trattamento dei dati in tempo reale il software è ora in grado di gestire scenari di guida complessi con maggiore precisione e sicurezza. Che si tratti di navigare attraverso strade cittadine trafficate o gestire complesse fusioni autostradali l'FSD di Tesla è progettato per operare con un intervento umano minimo. Ma quali caratteristiche specifiche rendono questo aggiornamento così rivoluzionario e come si confronta con concorrenti come Waymo o Cruise? L'impatto di questi progressi va oltre le semplici meraviglie tecnologiche sono destinati a sconvolgere profondamente l'industria automobilistica. Mentre Tesla spinge i limiti di ciò che è possibile con i veicoli autonomi stabilisce un nuovo standard per il mercato. Questo potrebbe portare a una maggiore competizione tra i produttori di automobili ognuno dei quali si sforza di eguagliare o superare le capacità di Tesla. Man mano che i consumatori si sentono più a proprio agio con l'idea delle auto autonome potremmo assistere a un cambiamento nei modelli di acquisto e nelle abitudini di trasporto. Come cambierà questo il panorama del mercato automobilistico e quali nuove opportunità potrebbero emergere per aziende e consumatori? La strada verso l'autonomia completa non è priva di sfide. Il panorama legale e normativo che circonda i veicoli autonomi rimane complesso e incerto. Questioni come la responsabilità in caso di incidente la privacy dei dati e le implicazioni etiche delle decisioni prese dall'IA sono considerazioni critiche. Man mano che Tesla continua a perfezionare la sua tecnologia FSD queste sfide devono essere affrontate per garantire il dispiegamento sicuro e responsabile dei veicoli autonomi. Come stanno rispondendo legislatori e regolatori a questi progressi e quali ostacoli rimangono sul cammino verso una diffusione generalizzata? Guardando al futuro il piano di Tesla per l'FSD è sia ambizioso che entusiasmante. Musk ha ripetutamente espresso la sua visione di un futuro in cui le auto siano completamente autonome capaci di navigare senza alcun intervento umano. Gli ultimi aggiornamenti avvicinano Tesla a questo obiettivo ma c'è ancora lavoro da fare. L'azienda si sta concentrando sul perfezionamento della capacità del sistema di gestire un'ampia gamma di condizioni di guida e sul miglioramento dell'esperienza utente complessiva. Quali passi si stanno compiendo per raggiungere l'autonomia completa e cosa potrebbe riservare il futuro per Tesla e il campo più ampio dei veicoli autonomi? Esplorando queste domande diventa evidente che i progressi di Tesla nella tecnologia dei veicoli autonomi riguardano non solo l'innovazione ma anche la trasformazione del modo in cui pensiamo al trasporto. Il percorso verso l'autonomia completa è complesso e impegnativo ma con leader come Musk al timone il futuro della guida è destinato a una trasformazione entusiasmante. L'ultimo annuncio di Elon Musk ha anche enfatizzato sviluppi rivoluzionari nelle ambiziose iniziative di esplorazione spaziale di SpaceX. Dal lancio di satelliti avanzati alla pianificazione della colonizzazione umana su Marte SpaceX continua a spingere i limiti di ciò che è possibile nella tecnologia spaziale. I progetti recenti includono il dispiegamento di nuovi satelliti Starlink che mirano a fornire copertura internet globale e i preparativi in corso per la missione su Marte. Ma cosa rende questi progetti così cruciali nel panorama dell'esplorazione spaziale? Il ruolo di SpaceX nell'avanzamento della tecnologia spaziale è indiscutibile. L'azienda ha rivoluzionato l'industria con la sua tecnologia di razzi riutilizzabili riducendo significativamente il costo dei viaggi spaziali. Il razzo Falcon 9 noto per i suoi atterraggi precisi e le capacità di riutilizzo è diventato un pilastro per il lancio di satelliti e la consegna di carichi alla Stazione Spaziale Internazionale. Il recente lancio della Starship progettata per missioni spaziali intensive segna un altro importante passo avanti. Con la sua capacità di trasportare grandi carichi e un numero significativo di passeggeri la Starship è un componente critico della visione di Musk per la colonizzazione umana su Marte. Ma quanto sono realistici questi piani e quali sfide si profilano per un'impresa così ambiziosa? La collaborazione gioca un ruolo cruciale nella strategia di SpaceX. L'azienda ha stretto partenariati con la NASA, aziende private e agenzie spaziali internazionali per raggiungere i suoi obiettivi. Una collaborazione degna di nota è il programma Artemis della NASA che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna e stabilire una presenza sostenibile. Il ruolo di SpaceX in questo programma include lo sviluppo del sistema di atterraggio umano Starship che porterà gli astronauti sulla superficie lunare. Queste collaborazioni sono essenziali per condividere risorse, tecnologia e competenze garantendo che gli ambiziosi obiettivi dell'esplorazione spaziale vengano raggiunti. Ma come modellano queste collaborazioni il futuro delle missioni spaziali e cosa significano per l'industria spaziale globale? Il panorama competitivo nell'industria spaziale sta diventando sempre più dinamico. Anche se SpaceX si è affermata come leader nel volo spaziale commerciale affronta la concorrenza di altre aziende private come Blue Origin e di enti governativi come la CNSA cinese. Blue Origin fondata da Jeff Bezos sta sviluppando i propri razzi riutilizzabili e punta a stabilire una presenza sulla Luna. La CNSA ha compiuto progressi significativi con le sue missioni lunari e i piani per una stazione spaziale. Questa competizione stimola l'innovazione e abbassa i costi rendendo lo spazio più accessibile. Ma quali sono le implicazioni di questa crescente competizione per il futuro dell'esplorazione spaziale e come potrebbe influenzare i piani ambiziosi di SpaceX? Mentre SpaceX continua a guidare l'esplorazione spaziale il futuro appare incredibilmente promettente. I progressi dell'azienda nella tecnologia dei razzi gli ambiziosi obiettivi di colonizzazione di Marte e le collaborazioni strategiche la posizionano all'avanguardia di una nuova era nell'esplorazione spaziale. Tuttavia il percorso è pieno di sfide da ostacoli tecnici a considerazioni normative e finanziarie. Come supererà SpaceX queste sfide e quali innovazioni possiamo aspettarci nei prossimi anni? Gli annunci recenti di Elon Musk non riguardano solo i progressi tecnologici fanno parte di una visione molto più ampia per il futuro. Gli obiettivi a lungo termine di Musk per l'umanità includono la transizione verso l'energia sostenibile la colonizzazione dello spazio e l'innovazione tecnologica in più settori. La sua visione è ambiziosa e di grande portata mirata a garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'umanità di fronte a minacce esistenziali. Ma come si inseriscono questi annunci in questa grande visione e cosa potrebbero significare per il nostro futuro? L'impegno di Musk per l'energia sostenibile è evidente attraverso la continua ricerca di Tesla nella tecnologia dei veicoli elettrici e nelle soluzioni di energia rinnovabile. I progressi nel software di full self-driving di Tesla e l'introduzione di nuovi sistemi di IA come Grok 2 e Grok 3 non riguardano solo il miglioramento della tecnologia ma sono passi verso la riduzione della dipendenza dell'umanità dai combustibili fossili e la mitigazione del cambiamento climatico. Musk immagina un mondo in cui l'energia pulita non sia solo un'opzione ma lo standard. Tuttavia queste tecnologie possono essere adottate abbastanza rapidamente da avere un impatto significativo sulle emissioni globali? La colonizzazione spaziale è un altro pilastro della visione di Musk. Gli sviluppi di SpaceX inclusi i piani ambiziosi per la colonizzazione di Marte fanno parte di una strategia più ampia per rendere la vita multiplanetaria. Musk ha ripetutamente sottolineato l'importanza di avere un piano B per l'umanità nel caso in cui la Terra diventasse inabitabile. Il progetto Starship che mira a trasportare esseri umani su Marte e oltre è un passo audace in questa direzione. Ma quali sono le considerazioni pratiche ed etiche di un'impresa del genere e quanto presto potremmo realisticamente vedere esseri umani vivere su un altro pianeta? Le implicazioni globali della visione di Musk sono intense. I progressi nell'IA, nei veicoli autonomi e nella tecnologia spaziale hanno il potenziale per sconvolgere industrie, economie e persino dinamiche geopolitiche. Ad esempio, l'ascesa dei veicoli autonomi potrebbe portare a cambiamenti significativi nell'industria automobilistica, influenzando posti di lavoro, infrastrutture di trasporto e pianificazione urbana. Allo stesso modo, l'esplorazione e la colonizzazione spaziale potrebbero aprire nuove frontiere per l'estrazione di risorse e la cooperazione o competizione internazionale. Ma come si svolgeranno questi cambiamenti sulla scena globale e quale ruolo giocheranno diversi paesi e organizzazioni in questa nuova era? La percezione pubblica e i media giocano un ruolo cruciale nel plasmare il discorso intorno a questi sviluppi. Gli annunci di Musk sono spesso accolti con un misto di entusiasmo e scetticismo. La rappresentazione mediatica può influenzare l'opinione pubblica, la fiducia degli investitori e persino le decisioni politiche. Mentre Musk continua a spingere i confini di ciò che è possibile, il mondo guarda attentamente, ansioso di vedere se queste audaci visioni si realizzeranno. Ma quanto di questo entusiasmo è giustificato e come possiamo separare le aspettative realistiche dalla semplice speculazione? Le imprese di Musk non sono solo meraviglie tecnologiche ma anche potenze finanziarie. Negli ultimi anni le aziende di Musk hanno attirato significativi investimenti e finanziamenti alimentando la loro crescita e innovazione. Tesla, ad esempio, ha visto diversi round di finanziamento di successo raccogliendo miliardi per espandere la produzione di veicoli elettrici e la tecnologia delle batterie. SpaceX, invece, ha ottenuto sostanziali contratti governativi e investimenti privati sostenendo i suoi ambiziosi progetti di esplorazione spaziale inclusi lanci di satelliti e missioni su Marte. Ma come influenzano queste manovre finanziarie i mercati azionari? Gli annunci di Musk spesso causano scossoni nei mercati globali. Ad esempio, qualsiasi aggiornamento sui progressi di Tesla nella tecnologia di guida autonoma o sul lancio di nuovi prodotti tende a provocare significative fluttuazioni nel prezzo delle sue azioni. Allo stesso modo, i progressi di SpaceEase come i lanci di razzi di successo o nuove collaborazioni possono influenzare il sentiment degli investitori e le valutazioni delle azioni. Questa dinamica tra annunci e reazioni di mercato sottolinea l'alto rischio e la volatilità che circondano le imprese di Musk e contributi economici delle aziende di Musk vanno oltre le loro prestazioni sul mercato azionario. Tesla e SpaceX sono stati cruciali nella creazione di posti di lavoro in particolare nei settori della produzione della tecnologia e dell'ingegneria e dell'ingegneria. Hanno stimolato la crescita industriale spingendo i limiti di ciò che è possibile e incoraggiando altre aziende a innovare e ad adottare nuove tecnologie. Gli effetti a catena su settori correlati come le energie rinnovabili l'intelligenza artificiale e l'aerospazio sono significativi spingendo avanti una nuova ondata di progresso tecnologico e crescita economica. Guardando al futuro cosa possiamo aspettarci dal futuro finanziario delle aziende di Musk? Gli analisti spesso speculano sulla redditività e sostenibilità potenziali di queste aziende. Per Tesla il percorso verso una redditività a lungo termine dipende dall'espansione della sua quota di mercato nei veicoli elettrici e nelle soluzioni energetiche. SpaceX nel frattempo punta a rivoluzionare i viaggi spaziali con piani di colonizzazione di Marte che potrebbero aprire nuove fonti di reddito attraverso il turismo spaziale e l'estrazione di risorse. Queste proiezioni future non sono prive di rischi. La competizione sul mercato le sfide normative e gli ostacoli tecnologici potrebbero influenzare la salute finanziaria delle imprese di Musk. Tuttavia la visione audace e lo spirito innovativo che guidano queste aziende offrono una solida base per superare queste sfide. La domanda rimane come influenzeranno queste strategie finanziarie il futuro panorama tecnologico e industriale? E più intrigante ancora quale ruolo giocherà Elon Musk in questa storia in divenire? Le preoccupazioni sulla privacy dei dati associate ai sistemi avanzati di IA non possono essere ignorate. Man mano che queste tecnologie diventano più integrate nella vita quotidiana raccolgono grandi quantità di dati sollevando domande su come queste informazioni vengono utilizzate archiviate e protette. L'equilibrio tra innovazione e privacy è delicato ed è essenziale garantire che i sistemi di IA rispettino la privacy degli utenti. Un'altra area critica di considerazione è l'impatto ambientale dei progetti di Musk. Da un lato i veicoli elettrici di Tesla e le soluzioni energetiche contribuiscono positivamente alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla promozione di fonti di energia sostenibili. Dall'altro i processi di produzione di queste tecnologie inclusa la produzione di batterie possono avere un'impronta ambientale significativa. Questa dicotomia richiede una valutazione più approfondita su come minimizzare gli impatti ambientali negativi massimizzando al contempo i benefici della tecnologia verde. Uno degli obiettivi principali di SpaceX la colonizzazione dello spazio solleva anche domande etiche. L'idea di creare insediamenti umani su altri pianeti solleva interrogativi sulla protezione planetaria e sul trattamento di eventuali forme di vita extraterrestri. Ad esempio come dovremmo procedere con l'esplorazione e la possibile colonizzazione di Marte? Quali responsabilità abbiamo nel preservare e proteggere altri corpi celesti? Queste non sono solo preoccupazioni accademiche sono fondamentali per il quadro etico che guida la nostra esplorazione spaziale. Il discorso pubblico gioca un ruolo significativo nella formazione e nella risposta a queste considerazioni etiche. I progetti di Musk spesso suscitano dibattiti animati sui social media nelle notizie e tra i leader di pensiero. L'opinione pubblica può influenzare la direzione delle sue aziende poiché i valori e le preoccupazioni sociali si riflettono nelle decisioni normative e nelle risposte del mercato. D'altra parte le visioni ambiziose presentate da Musk e dalle sue aziende possono ispirare entusiasmo pubblico e cambiare le prospettive sociali sulla tecnologia, la sostenibilità e il futuro dell'umanità. L'impatto culturale delle innovazioni di Musk non può essere sottovalutato. È diventato un simbolo dell'aspirazione tecnologica moderna influenzando il modo in cui le persone percepiscono la tecnologia e il futuro. I suoi progetti spesso avvolti in una narrativa di superamento delle sfide e realizzazione dell'impossibile risuonano con un pubblico globale. Questa influenza culturale va oltre la semplice ammirazione. Modella le aspettative e le aspirazioni del pubblico incoraggiando una più ampia accettazione ed entusiasmo per le tecnologie all'avanguardia. Il lavoro di Musk ha un'influenza significativa sull'istruzione in particolare nei campi della scienza della tecnologia dell'ingegneria e della matematica STEM. I suoi progetti servono come esempi reali dei principi STEM in azione rendendo queste materie più tangibili ed emozionanti per gli studenti. La visione di Musk per il futuro ispira una nuova generazione di ingegneri scienziati e innovatori desiderosi di affrontare le sfide più grandi del mondo. Iniziative come la collaborazione di SpaceX con istituzioni educative e la copertura mediatica dei progressi tecnologici di Tesla aiutano a coltivare interesse ed entusiasmo per le carriere STEM affrontando potenzialmente future carenze di competenze in queste aree critiche. Oltre ai suoi sforzi tecnologici Musk ha fatto notevoli contributi filantropici. I suoi sforzi sono strettamente allineati con la sua visione più ampia per l'umanità che include la promozione dell'energia sostenibile l'avanzamento dell'esplorazione spaziale e il miglioramento della qualità della vita sulla Terra. Ad esempio le donazioni di Musk a progetti di energia rinnovabile e il suo sostegno a una tassa sul carbonio sottolineano il suo impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre il suo sostegno alle iniziative educative come il finanziamento di borse di studio e il supporto a programmi educativi dimostra la sua dedizione a coltivare la prossima generazione di innovatori. Le iniziative filantropiche di Musk si estendono anche a preoccupazioni umanitarie più immediate. Le sue donazioni per gli aiuti in caso di disastri e il suo sostegno alla ricerca su problemi di salute globale come la pandemia di Covid-19 riflettono un impegno più ampio a utilizzare le sue risorse e la sua influenza per il bene comune. Queste azioni offrono benefici diretti a chi ne ha bisogno ma rafforzano anche l'immagine di Musk come un leader visionario sinceramente preoccupato per il benessere dell'umanità. Considerando il ruolo dell'innovazione nella società i contributi di Musk si distinguono non solo per i risultati tecnici ma anche per le loro più ampie implicazioni sociali e culturali. Il suo lavoro ci sfida a pensare oltre il presente e a immaginare un futuro modellato dalla creatività dalla determinazione e dall'impegno per il bene comune. Ma quali sfide e opportunità ci attendono mentre continuiamo a spingere i confini dell'innovazione? Guardando al futuro l'eredità di Elon Musk sta già prendendo forma sebbene il suo impatto completo sarà compreso solo negli anni avvenire. I suoi successi dalla rivoluzione dell'industria dei veicoli elettrici con Tesla all'avanzamento dei voli spaziali umani con SpaceX lo posizionano come una figura cruciale nel panorama tecnologico del XXI emette un secolo. I contributi di Musk saranno probabilmente ricordati non solo per le loro innovazioni tecnologiche immediate ma anche per la loro più ampia influenza sull'innovazione globale e sull'ambizione. Come vedranno le future generazioni le audaci iniziative di Musk e i cambiamenti trasformativi che hanno catalizzato? Guardando al piano a lungo termine la tabella di marcia di Musk per il futuro è tanto ambiziosa quanto ampia. Per Tesla l'obiettivo rimane chiaro accelerare la transizione del mondo verso l'energia sostenibile. Questo include lo sviluppo e la distribuzione continua di veicoli elettrici ma anche progressi nello stoccaggio di energia e nelle soluzioni di energia rinnovabile. L'innovazione di Tesla nella tecnologia delle batterie ad esempio è cruciale per rendere l'energia sostenibile più accessibile e pratica su scala globale. Quali nuovi sviluppi possiamo aspettarci nel prossimo decennio mentre Tesla spinge i confini della tecnologia sostenibile? per SpaceX la visione si estende ben oltre l'orbita terrestre. L'obiettivo finale di Musk è rendere la vita multiplanetaria con la colonizzazione di Marte in primo piano. Lo sviluppo continuo del razzo Starship progettato per viaggi spaziali di lunga durata è centrale per questa visione. I successi di SpaceX nella tecnologia dei razzi riutilizzabili e nel dispiegamento di satelliti hanno già rivoluzionato i viaggi spaziali riducendo i costi e aumentando l'accessibilità. Man mano che ci avviciniamo alla possibilità di missioni umane su Marte quali sfide dovrà affrontare SpaceX e quali opportunità emergeranno da questi sforzi? Oltre a questi progetti specifici la visione più ampia di Musk comprende cambiamenti trasformativi nell'energia nei trasporti e nella tecnologia il suo lavoro sottolinea l'importanza delle pratiche sostenibili e dell'uso etico della tecnologia le implicazioni della visione di Musk si estendono a numerosi aspetti della nostra vita da come alimentiamo le nostre case a come pensiamo al nostro posto nell'universo come potrebbero queste innovazioni rimodellare le industrie le economie e persino le strutture sociali in futuro la visione di Musk per il futuro non riguarda solo la tecnologia si tratta di ispirare l'umanità a pensare in grande e a puntare più in alto le sue iniziative incoraggiano un cambiamento nel modo in cui affrontiamo i problemi sottolineando la creatività la resilienza e la volontà di correre rischi questo spirito di innovazione è cruciale mentre affrontiamo sfide globali come il cambiamento climatico la scarsità di risorse e la necessità di uno sviluppo sostenibile come possiamo come individui e come società contribuire alla realizzazione di questi ambiziosi obiettivi le idee di Musk ci spingono a riflettere su come possiamo influenzare il futuro tutti possiamo dare il nostro contributo che si tratti di incoraggiare comportamenti ecologici promuovere i progressi tecnologici o semplicemente rimanere informati e coinvolti riflettendo sul messaggio di Musk e sugli effetti di vasta portata del suo lavoro lasciamoci ispirare a pensare attentamente e ad agire con decisione nelle nostre vite si tratti e nuclear mac e mac mac Grazie.